Ben ritrovati amici di Agriliria Italia, noi ci colleghiamo di nuovo da questa fiera straordinaria dedicata al food, appunto tutto food, sempre da questo spazio FIPE e attraverso questi incontri che abbiamo fatto in questa giornata cerchiamo di dare qualche consiglio a coloro che ci vedono attraverso la radio, ci sentono attraverso la radio e ci vedono attraverso la televisione. Abbiamo approfittato per invitare una serie di personaggi che hanno girato intorno a questo spazio FIPE e sono i ragazzi dell'istituto Carlo Porta che gli facciamo, fatevi un applauso anche perché siete stati veramente bravi, avete già in queste due giornate animato questo spazio attraverso il vostro operato, abbiamo potuto anche assaggiare una pasta straordinaria che poi la nostra tecnologa ci racconterà. Ma vorrei partire subito con Roberto Carcangiu che rappresenta un po' i cuochi professionisti italiani. Ecco, partiamo subito con chiedere, Presidente, a chiederle se l'industria, gli artigiani già fanno un lavoro che viaggeola poi in cucina. Beh, io direi assolutamente di sì, anche perché se no vuol dire essere rimasti qualche anno indietro in realtà. Che cos'è l'innovazione? Che cos'è l'innovazione? È un qualche cosa che a un certo punto della storia non esiste e su cui si comincia a lavorare. Se questa cosa funziona si chiama tradizione, è quello che è successo alla pasta, no? In realtà si è partiti da casa con due uova e un po' di farina e poi piano piano il mercato, attraverso le sue necessità, ha fatto sì che questo prodotto si evolgesse. In questo momento storico, secondo me, è un momento molto importante per la pasta, proprio perché è diventata nobile per certi aspetti e ricercata per certi altri. E in questo quindi la ricerca, lo sviluppo anche delle aziende che fanno grandi numeri serve. Quando parliamo di pasta nobile, cosa intendiamo? Vabbè, quello che rende nobile una pasta è innanzitutto A, il tipo di grano con cui viene fatta, B, il tipo di ripieno se è ripiena, C, il tipo di salsa o di sugo, che dir si voglia, se lo prevede. Quindi è un insieme di cose, non può essere una sola. Queste macchine che abbiamo visto esposte in fiera, lei ha fatto un giro in fiera? Sì, la conosco abbastanza bene perché è la fiera più importante nel settore. Ecco, queste macchine che aiutano in cucina sono un valore? Assolutamente sì. Nella velocità o nella qualità? No, io credo, allora, diciamo che bisogna guardare tutti e due gli aspetti, perché in realtà quando l'essere umano si libera dalla fatica diventa creativo. C'è proprio bisogno, c'è la necessità per un essere umano di liberarsi dai lavori meno gratificanti per poter far crescere un prodotto. Non sei innovativo, inventivo quando non hai neanche il tempo per respirare. Quindi le macchine assolutamente sì. Quindi agevolano il lavoro? Guardi, proviamo a ragionare così. Una volta scrivevamo con le penne di gallina, poi abbiamo cominciato alle stilografiche, poi quelle a biro e poi il pc. Sei tu che devi saper scrivere le poesie? Che tu le scrivi con la penne di gallina, col pc e con la stilola non cambia niente. O con la bicchia, voglio dire. L'importante è il contenuto. Va bene, va bene. Sei tu che fai la differenza. Promuoviamo quindi le aziende che in qualche modo... Assolutamente sì, perché è sempre l'uomo che guida una macchina, non può essere il contrario. Bene, allora mi dà un gancio per andare da Artana. Abbiamo la tecnologa e con la tecnologa dobbiamo confrontarci. Allora, non è facile accontentare questi signori qui? No, non è facile, però ha ragione quando dice ok la penna di gallina, lo stesso vale anche per la pasta. Alla fine la creatività sta nel creare nuovi ripieni, nuove tipologie di pasta. La creatività c'è, poi ci sarà la macchina che la produce, però la creatività sta sempre nella... La ricetta è sempre quella della nonna? La ricetta si parte sempre da quella della nonna, naturalmente, perché la tradizione è fondamentale, però sempre con uno sguardo alle nuove tendenze, ai nuovi gusti, ai nuovi sapori. Abbiamo assaggiato anche qui in fiera quello che è il classico pan sotto ricotta e spinaci, ma anche la tagliatella con le farine di castagna, la tagliatella con le ortiche. Si presta, si va sempre appunto nella nuova, nell'assaggio di nuove tipologie di paste che ormai anche girando per la fiera se ne sono viste davvero di tutti i gusti, come si suol dire. Luisa, ma non solo la pasta pronta, questi ragazzi devono essere in grado anche di farla con le proprie manine. Abbiamo visto che nel laboratorio FIPE se la cavano abbastanza bene, la scuola gli insegna anche a... Assolutamente sì, è la prima cosa che si insegna ai ragazzi, a utilizzare le mani, perché il loro strumento di lavoro sono le mani. Conoscere la materia prima? Assolutamente sì, poi i macchinari li utilizzeranno quando entreranno nel mondo del lavoro, oppure alla fine del loro percorso scolastico entrando a far parte degli stagi, durante gli stagi estivi che loro fanno presso grandi ristoranti, utilizzeranno anche lì dove c'è la possibilità, questi macchinari che permettano di velocizzare il lavoro. Ecco, la materia prima, tornerei su questo argomento Roberto, perché è importantissima, bisogna partire dalla buona materia prima, poi non bisogna rovinarla. Beh, chi ben comincia è a metà dell'opera, non a caso, no? Però a qualche volta riusciamo a rovinare un buon prodotto. Sì, è quando crediamo che la creatività sia un qualche cosa di fine a se stesso, in realtà la creatività è la fine di un percorso intellettuale su un argomento, come in questo caso, su un ingrediente come la pasta. Quindi a, conoscere le materie prime, b, saperle valorizzare al meglio è fondamentale. Tenendo poi presente una cosa, che nel caso del cibo abbiamo anche una connotazione che è legata un po' alle mode, no? Quindi bisogna essere molto attenti, stare molto attenti a capire fino a che punto un piatto ha una parte di concretezza che va assolutamente mantenuta, proprio per il rispetto e per la trasmissione di quella che è la qualità di questo determinato ingrediente. E fino a poi, dopo, sganciati da quel punto, c'è l'aspetto estetico creativo dove il mio amico Tonon poi credo dopo vi dirà qualche cosa. Quindi portare questi ragazzi nel campo, perché no? No, assolutamente sì, ma non puoi, così come un totano non è un anello, un spaghetto non è un pezzo che tu trovi da qualche parte. E Roberto ci va in campagna ogni tanto? E ci vive in campagna. Quindi c'è la sua materia prima, la controlla personalmente o delega? Assolutamente sì, diciamo che non controllo più personalmente perché mi sono creato delle schede, perché anche questo secondo me è un'altra delle cose cui... L'importante è quando si guidano dei gruppi di lavoro, non è tanto quello che sai fare tu, ma quanto riesci a trasmettere agli altri quello che va fatto, perché questo poi la... Se no stai creando dei robottini. Io sono molto per il fatto che le persone si autodeterminino e per essere autodeterminati anche i ragazzi devono avere delle informazioni abbastanza precise da far sì che si possano muovere in autonomia. Se no sono... Passatemi il termine degli schiavi, devi far questo, devi far l'altro. Porniamo all'istituto tecnico per capire bene se questo avviene. Ai ragazzi riusciamo a trasmettere anche il valore della materia prima? Assolutamente sì, perché lo studio non avviene soltanto nella pratica del laboratorio, ma loro studiano anche scienze e tecnologie alimentari, quindi c'è lo studio del prodotto proprio a livello nutrizionistico, organolettico. Quindi c'è un'attenzione nella materia prima che è fondamentale, se no non si potrebbe insegnare nulla a loro se non sanno con che cosa lavorano. Beppe Tonon, lei nasce gelatiere mi dicono, no? Sì, io nasco gelatiere. E poi ho cominciato a curare l'aspetto decorativo. Allora, questi ragazzi, partiamo prima dalla materia prima, poi andiamo in cucina e poi andiamo a decorare un prodotto che presentiamo... Però prima vorrei dire un'altra cosa. Prego. Vorrei dire, complimentarmi con la professoressa, perché come sono sti ragazzi, in ordine con la divisa, senza timbri e ribattini in giro, va bene, e qui rappresentano una grande professionalità della scuola. Grande serietà. Serietà, perché dobbiamo, noi siamo dei professionisti, i professionisti non vanno con pantaloni rotti o con ribattini o con timbri dappertutto. Quando si va in giro ormai c'è l'inno al cattivo gusto. E qua glielo porti anche il direttore, questa cosa qui, glielo porti, perché qui c'è un segno di grande professionalità. Questo prima di tutto. Poi rispondo alla domanda della decorazione. Decorazione. La decorazione, bisogna vedere in che aspetto. Se io devo fare un buffet, allora devo fare una scenografia e li vado a esagerare. Ma quando vado a decorare un piatto, io non vendo fiori, vendo pasta. Posso mettere un cenno decorativo consumabile comunque, un cenno che mi porti già visivamente a quello che vado a consumare. Ma non va oltre, perché noi non vendiamo piatti né di fiori né di decorazione, vendiamo pasta. E quindi bisogna andare alla sintesi, portarli col pensiero su un certo gusto, ma fermarsi un attimo prima. Bene, sulla pasta potremmo decorarla anche con della frutta, per esempio, no? Frutta no, se abbiamo pomodoro farò un cenno col pomodoro, se ho il basilico metterò la funtina. Sardare, no? Non possiamo sardare. No, non esageriamo. Roberto, possiamo sardare? Perché diventa una proiezione sbagliata. Come è sbagliata? Io vado a inquinarmi le papille gustativi visivamente con una cosa che non è nel piatto. Roberto, scusi. Sì, beh, diciamo che si può ovviamente giocare, no? Però l'ho detto prima, l'innovazione quando funziona nel tempo diventa tradizione. Se nonostante la farina e le uova ce li abbiano mezzo mondo, i peperoni ce li hanno tutti, le mele ce li hanno tutti, se però la pasta così com'è concepita, l'abbiamo inventata noi, e della nostra storia non è a caso. Quindi sono un po' d'accordo con Tonon quando dice, attenzione, che in realtà quando tu metti qualche cosa su un piatto, il famoso punto di messa a fuoco per la persona che guarda questo piatto, questo punto di messa a fuoco ti dà già tutta una serie di messaggi impliciti che se sono fuorvianti, quando tu vai a mettere in bocca gli ingredienti, in realtà provi delusione, non provi soddisfazione. Quindi sul gioco sì, ma con granosalis. Roberto, questi programmi televisivi che vediamo, non facciamo nome, sono utili? Perché mi fate delle domande cattive a cui posso rispondere sulle maniere cattive? Si rappresenta una parte di questi cuochi, no? Sì. La televisione aiuta comunque ad avvicinarsi al prodotto, al territorio. Sì, sì. Guarda, io partirò dicendo una cosa, la televisione è finta, deve essere il punto di partenza, è un gioco, ecco. Fermo questo aspetto, secondo me si sta un po' esagerando. Che cosa voglio dire? Che come in tutti i mestieri, quando se ne fa troppo, se ne parla troppo e si racconta troppo e soprattutto non è vero, le masse poi vanno dietro. Da un periodo in cui si è molto in alto, di solito si precipita in un momento in cui si è troppo in basso, perché la gente, dalle mie parti, dicono, saste face. Io poi che sono uno chef, comunque vorrei vedere meno qualche in televisione più alto, lo dico proprio senza mezzi termini. Però ha in qualche modo aiutato? Assolutamente sì. Crescere? Assolutamente sì. Più che ha aiutato il nostro mondo a crescere, credo che l'abbia reso noto, perché era molto più grande prima. Addirittura? Sì. Gli stipendi parlano a riguardo. Siete d'accordo ragazzi? Siete d'accordo? Un applauso, altrimenti niente applauso. Gli stipendi parlano a riguardo. Adesso è più famoso, non è dato che sia meglio. Dottoressa Brogini, allora mi sembra che già abbiano fatto un quadro interessante. Io in questo caso posso dire la mia da utente, da consumatore, consumatore di immagini e consumatore di piatti. In effetti la televisione ha reso noto, come diceva lo chef Roberto, un mondo che forse era nascosto in cucina. L'ha portato fuori. Però che cosa ha portato fuori? Ha portato fuori la mise en place. Tutto quello che è il lavoro, la qualità, la ricerca, che ci sta dietro, non viene spiegata, perché non è interessante. Io ho una metafora che racconto sempre in tutte le situazioni e mi sembra che valga anche in questo caso. per il cliente poco attento, quando pigia l'interruttore della luce si aspetta che la lampadina si accenda. Se non si accenda, al massimo la lampadina è bruciata. Non pensa che serve anche un impianto della corrente elettrica. E qui è la stessa cosa. Quando porti un piatto in tavola, c'è chi punta sull'effetto decorativo, e sono d'accordo con tononna, che se io vedo una sterlizia, una mammola, eccetera, mi disturba. Non perché non sia bella, perché non so che gusto ha la viola. Se devo mangiare un piatto al pesto, mangio la pasta al pesto e la viola la lascio da parte, anche se è edibile. Perché è una cosa che non mi aspetto. Mentre invece una foglia di basilico mi arricchisce. E allora, siccome noi mangiamo non solo con le papille degustative, ma prima ancora con gli occhi, con l'olfatto, tant'è vero che oggi prima ti portano il piatto, prima lo fotografi. E attenzione, anche questa può essere una distrazione. Lo è, lo è sicuramente. Quindi fa parte non più della mise in plassa, ma dell'effetto scenico. Roberto, concorda? Assolutamente. Guardate, io siamo qua in questo piccolo palco. Ai ragazzi dico sempre una cosa. Guardate che se non accettate l'idea del tempo, perché per avere esperienza bisogna far passare il tempo, devi vivere una cosa. In questo caso stiamo parlando di una professione. E' veramente perdere la parte più importante di quella professione. E' un po' come pretendere di imparare a fare l'amore sul catalogo della Vesto. so che quelli come me e lei che hanno una certa età se lo ricordano. Invece c'è proprio bisogno di vivere le cose giornalmente, di toccarle, di masticarle, di sbagliarle, di rifarle. Perché è fondamentale. Bene, cosa deve cambiare negli istituti alberghieri? Roberto. Per me? Sì, sì. Per lei. Allora, innanzitutto io conosco un sacco di docenti di scuola alberghiera. Noi italiani, e parlo da italiano, facciamo delle volte un errore. Giudichiamo una categoria rispetto a delle macchie. Io conosco dei tecnologi imbranatissimi, conosco dei cuochi imbranatissimi, conosco dei docenti imbranatissimi. La scuola alberghiera come istituzione, secondo me, è un'istituzione importante. Dovrebbe, probabilmente, in questo momento storico, rivedere un aspetto formativo perché si trova, dal mio punto di vista, in un momento storico in cui non è completamente zuppa e non è completamente pambagnato. Cioè, si cerca sempre di accontentare tutti. Secondo me, questo è sbagliato. È un momento in cui bisogna decidere. Questa faccia un po', non è d'accordo? Sì, perché la scuola alberghiera, rispetto a quella che ho fatto io trent'anni fa, è completamente differente. Io facevo 18 ore alla settimana di laboratorio, loro ne fanno quattro. Quindi... Come fanno ad essere così bravi? Quindi vuol dire che... È perché ci proviamo a insegnare quello che è stato insegnato a noi, nel senso che la prima cosa che devono imparare è essere umili, imparare a lavorare nell'ordine, nella pulizia. Stiamo a livello del giallo, per cortesia. Come presentarsi, che il loro biglietto da visita è quello, no? Fondamentalmente è quello. Noi li istruiamo in questo, poi aspetta loro, purtroppo devo dire, poi aspetta i ristoratori, istruirli, perché noi gli diamo le basi, quel poco che riusciamo a dare. Prima non era così, prima li formavamo. Ecco, questo... No, aspetti. Quando lei... Passiamo ancora la giusta così. Questi stage, servono qualcosa ai ragazzi? Allora, posso dire, faccio come tonon prima, in realtà, dobbiamo imparare questa cosa, lo dico, i cuochi devono impararla, non le scuole. In realtà la scuola è lo strumento che ti deve insegnare l'alfabeto, non le poesie. Perché? Perché poi ogni ristorante scrive la sua storia, io non posso pensare di conoscere tutte le salse del mondo. Questa scuola che non fa laboratorio. Lo stage serve, sì, se è fatto bene, non serve, se è usato come strumento per non assumere le persone, se viene usato come strumento di dumping sul mercato per fregare la concorrenza, perché tu magari hai la fortuna di avere dei ragazzi che non paghi. Quindi lo stage assolutamente sì, se è sano, assolutamente no, se viene usato come strumento per fregare il mercato. Com'è sano? Perché deve essere sano? Lo straccio possono darlo i ragazzi? Sì, assolutamente sì, devono. Io ho 55 anni ancora adesso, anche se non sono più in operativo, quando capita che lavoro, per me è assolutamente naturale prendere e pulire il posto dove dovevo io lavorare. Ci mancherebbe altro. Le cucine italiane sono messe tutte così bene? Allora, nì, però io che il mondo lo gira ancora vi garantisco che spesso e volentieri tendiamo a essere esterofili e vi farei vedere qualche cucina non italiana perché ci avranno pure i dollari ma per il resto possiamo discuterne. Quindi sull'igiene delle nostre cucine possiamo andare tranquilli? No, guardate, anzi, posso dire che il nostro di tutti i paesi che io visito tutti gli anni per lavoro è sicuramente uno dei più puliti. Ragazzi, allora, avete qualche domanda da fare scomoda al nostro presidente che rappresenta un po' il vostro futuro? Sono i cuochi, no? Coloro che in qualche modo poi voi entrerete. Anche una domanda... Vai, non hai una domanda che non ti stimola? Cosa vuoi fare da grande? Eh, vorrei seguire questa strada qua. Ti convince quello che stiamo dicendo? Sì, 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 assolutamente. Lo stage l'hai già fatto? No, quest'estate qua dovrò fare... Il primo stage? È il secondo, il primo un po' più serio, forse il primo è stato di un mese, questo durerà un po' di più una stagione. Ma il primo stage com'è andata? Male, mi sembra di capire. No, benissimo, se no avrei già deciso di non seguire più questa strada forse. Quindi è andata bene la prima volta? Benissimo, sì, sì. Quindi il prossimo stage sarà? Sai già dove andrai? Sì, in Friuli, Venezia Giulia. Quindi hanno già idee chiare questi ragazzi? Ma è importante che sia così. Mi piace questo. Tanto poi le idee le cambi strada facendo se c'è qualcosa che non funziona. tu da dove vieni? Io? Eh? Io sono nato qua a Milano e i miei genitori invece sono cinesi. Si sente che sei un milanese tu. Quindi stiamo attenti però a insegnare troppe cose ai nostri amici. In cucina tu, ti abbiamo visto molto attento, molto bravo. Ecco, questi stranieri, Roberto, giusto approfitto, questi stranieri che non sono stranieri, questo è italianissimo, però questo è un valore aggiunto. Guardate, io sono stato straniero perché in realtà avendo fatto la gavetta a 14 anni ero in Germania, a 16 anni ero in Francia, a 18 anni in Inghilterra, a 21 anni ero imbarcato sulle grandi navi da crociera. Quindi so cosa significa essere straniero. In realtà credo che sia un valore. Cioè il fatto che altre culture si mescolino con la nostra è un valore a patto che si mescolino. Perché il problema è quando ci autoghettizziamo. A me è capitato, lo dico senza vergogna, anche qua. In cucina? Assolutamente sì. E' il pensare di avere la verità in tasca a quello che ti frega. Perché il mondo cambia che tu voglia o no. E perché il mondo è fatto da in questo momento 7 miliardi di persone. Chissà domani. Benvengono. Cosa ne pensi Beppe? Io ne penso che prima parlavate di macchine così, che questa tecnologia ci porta, però io ricordo, vi faccio una battuta, due grandi personaggi, una pittrice e un fotografo, Fulvio Reuter, uno dei più grandi fotografi che abbiamo avuto. Era una serata da noi e la Gina Roma, pittrice, fa voi avete le macchine straordinarie, è facile per voi a fare questo, adesso, che c'è questa tecnologia. E lui ha risposto in questo modo, ed è il modo che vorrei rispondere anch'io. la macchina fotografa quello che l'occhio dell'uomo prima vede e la stessa cosa nel nostro lavoro. La macchina funziona ma c'è l'uomo in prima persona. È l'uomo in prima persona. Questo volevo rispondere. Bene, l'uomo è fondamentale perché la ricetta poi la fa sempre l'uomo, anche con la macchina, dai tempi di cottura, queste macchine che avete usato, ragazzi, avete deciso voi i tempi di cottura? Sì, in base al tipo di pasta e al tempo che ci metteva a cuocere. Quindi la macchina va bene, però bisogna saperla utilizzare. Certo, altrimenti se ne fa un uso sbagliato e non si raggiunge niente, cioè non si combina niente comunque. E quel signore che è venuto stamattina a spiegarvi un po' la tecnologia, vi ha convinto? Sì, abbastanza. È comunque utile, più veloce, come avevo già detto, e in questi casi anche più sporca di meno e comunque è più ridotta in confronto ad avere pentoloni in giro, tutto sporco, cioè più utile. Più ordine, Roberto, anche perché nei bar molto spesso dobbiamo servire dei piatti caldi, no? Sì. E questa tecnologia spesso aiuta, come abbiamo visto stamattina. Ma guardate, in realtà, come posso dirla questa cosa? Cioè, gli esseri umani da sempre costruiscono il futuro su un problema. Cioè, l'essere umano spinge la caretta con una ruota di cemento e dice, forse se di gomma è meglio. Poi capisce che un motorino è meglio che una carretta, poi capisce che una macchina è meglio di un motorino e continua a crescere. Quindi, in realtà, quello che dobbiamo fare è a tal proposito, a proposito proprio dei ragazzi e della signorina e dei colleghi che ho portato prima, là dietro che collaborano con me, questa cosa ci tenevo a dirla. nel prossimo futuro anche la figura dello chef, come noi siamo abituati a vederlo, cioè lo spadellatore, non ha più ragione di esistere. le persone che si occuperanno di cucina... No, però questa poesia ci piace. La padella che arriva sul tavolo... Sì, ma è il concetto delle mani intelligenti. Prima le mani potevano non essere intelligenti, adesso c'è bisogno di costruirle queste mani intelligenti, cioè il livello di preparazione del professionista in cucina sarà tecnicamente molto più alto di quello che ho avuto io magari quando ho cominciato 40 anni fa. Dovranno capire, come diceva la loro docente, di nutrizione, di tecnologie produttive, perché magari devono far funzionare delle macchine che producono 400 kg di pasta ora e non una porzione. C'è un bellissimo libro di Sennet che dice qual è la differenza fra l'artigiano e l'industria? Il fatto che per l'artigiano l'utile di impresa non è necessariamente il fine ultimo, quindi significa che l'artigiano in funzione della qualità è disposto a sacrificare un po' del denaro per se stesso, ma comunque produrre deve saper produrre. Relazione tra l'industria che costruisce macchine e voi, c'è una buona relazione? Sì, per quello che mi riguarda sì, e i professionisti devo essere onesto, le posso dire che fino a una ventina d'anni fa si faceva molto più fatica. Adesso sia chi si approccia che i professionisti che sono ancora sul mercato si sono resi conto che se non hai un occhio diverso non può funzionare. Se usiamo l'esempio della poesia è un po' come dire nessuno scriverebbe un'enciclopedia con una penna di gallina adesso. Bene, sui due colleghi mi permetto di disturbarvi. Allora, siete d'accordo su quello che ha appena detto Roberto? La tecnologia abbiamo già capito che vi aiuta ma in molti casi non la sappiamo usare bene, credo. No, non è vero. Penso che come noi chiediamo l'aiuto agli chef per creare macchinari, cose nuove e così è sempre l'uomo che fa funzionare le macchine. Siamo sempre noi che facciamo funzionare le macchine, le macchine da sole non fanno nulla, il processo viene gestito dall'uomo e il processo viene creato per riprodurre industrialmente ciò che la massaia fa a casa. Quindi le macchine sono concepite per ridurre sempre di più questo gap. Abbiamo dei ragazzi presenti, li stiamo osservando da due giorni, quale consiglio possiamo dare a questi ragazzi che sono volenterosi, bravi, sorridenti? Non vi date limiti, pensate sempre a qualcosa, pensate sempre diverso, non siate mai banali e questo. Non siate mai banali, ecco, non siate mai banali nonostante le macchine. Prego, Brugini, dottoressa. Abbiamo parlato, anzi, lei sauro a chi ha fatto una domanda precisa, ritenete utili questi stage e qualcuno ha detto sì se non fanno dumping. Allora, volevo precisare che Fipe ogni volta che fa uno stand in fiera coinvolge i ragazzi ma è uno stage formativo ed è finalizzato ad insegnare a questi ragazzi come muoversi in un ambiente destrutturato come quello della fiera perché molto probabilmente per loro è la prima volta che si confrontano con un pubblico con delle liste d'attesa con dei tempi con un programma da rispettare e in condizioni difficili perché non hanno a disposizione una cucina come quelle del laboratorio della scuola e quindi devo fare dei grandissimi complimenti a tutti questi ragazzi dei complimenti ai loro tutor e devo dire che ogni volta trovo sempre delle facce che ispirano simpatia e ispirano simpatia perché accettano anche di essere valutati abbiamo definito un criterio di valutazione che è un mix tra noi che siamo qui presenti che agiamo da mister client che li guardiamo i loro docenti e gli avventuri del momento e questo li porta a premiarli tutti perché se lo meritano tutta e a individuare di volta in volta chi al di là di portarsi a casa la coppa o la targa si porterà a casa un premio e farà da assistente a una tappa della nazionale di APC e quindi penso che anche questo sia un modo per mostrare a loro un mondo che è quello vostro della nazionale che magari non conoscono è così è così tappa nazionale ci spieghi un po' la vostra associazione è composta da da circa 5.000 chef associati quanti? 5.000 5.000 che sono su tutto il territorio nazionale siamo tanti meno male fanno parte anche quelli stellati c'è di tutto uno chef è uno chef punto quando diventa da cuoco chef? ma quando è in grado di guidare un'azienda senza fare dei disastri quindi le stellette credo che sia è il mercato quello che ti valuta non la guida secondo me non è la guida che dà la stelletta ma no quella è una parte del gioco ma le stelle ti servono poco se il ristorante è vuoto se no l'operazione è riuscita e il paziente è morto 5.000 pochi chef noi abbiamo una nazionale che ci rappresenta tutti gli anni facciamo anche degli inserimenti di professionisti nuovi perché in realtà siamo convinti che chi rappresenta un gruppo di professionisti deve essere abbastanza professionista da non far fare brutta figura a tutti gli altri e quindi a parte i corsi che facciamo fra di noi per migliorarsi tutti gli anni ma inseriamo tutti gli anni anche delle giovani leve proprio perché per far sì che siano loro poi a prendere il testimone potreste entrare nel circuito degli istituti tecnici ma stiamo già facendo delle cose anche con gli istituti tecnici proprio perché siamo convinti proprio perché se no si perde il sapere e poi teniamo proprio al fatto dei personaggi dentro la nazionale che hanno proprio come loro obiettivo quello di far capire che ragazzi attenzione il nostro è un mestiere con una componente artistica non è arte dove forse devi anche saper fare un mestiere allora dobbiamo concludere perché ci dicono che dobbiamo chiudere Altana oggi rappresenta la pasta italiana però Roberto prima comunque il microfono ce l'ho io quindi adesso la guido io cosa chiediamo all'industria che prepara queste paste fresche si fa per dire io direi di tenere in considerazione che devono continuamente alzare l'asticella cioè in realtà noi siamo per loro lo spirito critico non devono prenderci come polemica ma proprio come critica costruttiva perché in realtà noi siamo l'ultimo anello prima del cliente e abbiamo quella sensibilità un po' per passione un po' per natura un po' per quotidianità per poter dire che cosa piace veramente al mercato perché anche questa cosa che il web dica che cosa piace il mercato ci fidiamo poco no va usato in un altro modo è un po' come il giornaletto di cui parlavamo prima le app servono comunque assolutamente sì però è uno strumento di supporto non può essere lo strumento quindi una critica che vogliamo fare all'industria che prepara queste paste la critica che potete fare lei è usateci di più tecnologo usateci di più assolutamente stiamo già lavorando anche a questo quello nazionale con nazionale cuochi no magari allora facciamo già stringiamo un patto e infatti non sarebbe male proprio come ricerca e sviluppo nel senso per avere anche tutta una serie di informazioni importante potrebbe essere una bella proposta ottima è un obiettivo direi proprio di sì io concluderei ringraziamo per questi brevi interventi che abbiamo fatto in questa mezz'oretta rilanciamo all'interno studio bravi ragazzi noi continuiamo comunque anche domani anche perché mi dicono che ogni giorno cambia squadra ma quante squadre ha organizzato Brugini una al giorno una squadra al giorno quindi domani voi non ci sarete sei dispiaciuto per questo eh un pochino bene 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 va bene tutti avranno attestato di partecipazione grazie al nostro tutto grazie al nostro tecnologo il nostro Beppe Tonorchi ci ha fatto vedere delle sculture oserei dire straordinarie Roberto grazie 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 rilanciamo la linea lo studio grazie 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 grazie